Buonasera carissimi amici, ascoltatori e telespettatori. Oggi andiamo a presentare qualcosa di importante. Tennis Influence è all'interno di un contenitore, Rai Documentary. Che cosa andiamo a presentare? Cosa i nostri ascoltatori devono naturalmente aspettarsi da questa iniziativa? Intanto devo dire che essere presenti in questa mostra internazionale del cinema di Roma, del festival, per me non avrei mai pensato che un progetto studiato anni fa potesse arrivare dentro la casa dei telespettatori attraverso un documentario espresso e prodotto da Rai Documentary, il cui vi ringrazio, per lanciare sempre di più l'importanza della prevenzione. Un documentario che oggi è visibile su RaiPlay, dove da una parte si ride attraverso i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, dall'altra parte ci si commuove con i colleghi medici e soprattutto con quei pazienti che si sono salvati la vita attraverso la manifestazione, venendo solamente a divertirsi e a fare quegli screening fondamentali per la nostra salute. Complimenti veramente per tutto quello che fate. Noi ogni anno seguiamo Tennis Influence, veniamo con la nostra telecamera per poter raccontare ai nostri telespettatori tutto ciò che accade dietro questo mondo dello sport e della prevenzione. Il Tennis Influence è un gioco di squadra, dove raggruppa istituzioni, dal Ministero della Salute al Ministero dello Sport, istituzioni territoriali, quindi Regione Lazio qua a Roma, Regione Piemonte a Torino, come Regione Campania a Napoli. Ma soprattutto è la solidarietà del comparto sanitario, che volontariamente si dessi priva di due giorni e tre a volte dalle proprie famiglie, venire volontariamente a visitare i pazienti in maniera gratuita. E questo è un fattore importantissimo. Vi ricordate quando i medici erano degli angeli durante il Covid? Oggi purtroppo sono certe volte attaccati ingiustamente, questo va censurato quando i medici vengono attaccati nei prontosoccorsi, dichiarando alcuni che hanno fatto male. La classe medica è sempre a disposizione della popolazione e lo sarà sempre. E quindi Tennis Influence vuole anche dimostrare quanto la classe medica sia sanitaria, perché ci sono infermieri, medici, quanto sia a disposizione della popolazione. Quindi va fatto un pauso soprattutto a loro e a Tennis Influence. Le ringraziamo per la sua disponibilità, ma soprattutto per tutto quello che fa, perché se esiste una grande organizzazione come Tennis Influence è grazie a lei. Grazie a voi che lo comunicate perché entrare dentro le case è fondamentale. Ricordatevi che il tagliando della macchina è come il tagliando della salute, bisogna farlo periodicamente. È vero, grazie.